gelateria del ponte iogurteria creperia budineria il top del gelato ecco i veri maestri del gelato artigianale con tanti gusti gli originali pistacchione palle di mozart sapore di puglia e il gelato del ponte nelle stagioni più calde ricco assortimento di sorbetti alla frutta fresca iogurteria soddisfiamo i vostri gusti con specialità squisite dalla frutta fresca alle confetture e per i più golosi crema al cioccolato e ai suoi derivati e ancora budini che solo a vederli già viene l'acquolina in bocca tra i tanti quelli deliziose alla frutta alla marmellata e al cioccolato vi prendiamo per la gola con le nostre crepe tante varietà per soddisfare i palati più esigenti gelateria del ponte una tradizione ventennale al servizio del cliente qualità e convenienza sono le nostre prerogative quattro sedi a taranto via da quino 110 via matteotti 1 viale trentino 35 b via liguria 71 a